ciao ragazzi allora oggi sfrutto un messaggio che mi è stato lasciato sulla nuova sul nuovo spazio che ho messo nella sezione dei video online del mio sito che trovate al link qui sotto dove ognuno può richiedere le proprie lezioni argomenti vari tecnica armonia eccetera oggi voglio rispondere oggi voglio sfruttare questo messaggio per aprire un mini approfondimento messaggio di groove bellissimo nome che mi dice se puoi ti andrebbe di approfondire discorso pentatoniche come memorizzare tutta tastiera soprattutto come e dove utilizzarle allora io ho preparato intanto tutto un pdf con tutta la teoria delle pentatoniche evitare perdere tempo poi nei video sono diventano come sempre lunghissimi e ho soprattutto cercato di chiarire discorso pentatoniche maggiori e minori relative non relative eccetera e anche qui c'è molta confusione a volte invece il discorso è semplicissimo con un po come succede quotidianamente con scale modali modi musica tonale modale eccetera io cerco sempre di chiarire i dubbi con la massima semplicità allora quindi tutto il discorso di come si costruisce una pentatonica cos'è come si usa dove quando e perché lo trovate sul pdf ora voglio farvi vedere come io studio e come memorizzo tutte le pentatoniche quindi non di tonalità su tutta tastiera allora ci sono vari come sempre varie interpretazioni di studio vari metodi c'è chi usa famosi box io non sono propriamente amante i box sarebbe una specie di visione geometrica della scala sullo strumento quindi se faccio una pentatonica di sol maggiore parto dal primo grado questo box quindi questa questa diteggiatura diciamo poi se parto dal secondo ne avrò un altro dal terzo un altro così via a me l'xbox non mi è mai piaciuta sono stato più per la play scherzi a parte preferisco lo studio delle scale con un po più di diciamo consapevolezza delle note e gli intervalli che la compongono quindi la stessa scala pentatonica maggiore di sol quindi ora tralascio il discorso che è identica alla minore di mi perché mi è la relativa minore di sol quindi la pentatonica di mi non è altro che la pentatonica di sol partendo appunto dal mi quindi è una specie di box anche quella pentatonica di sol quindi abbiamo primo grado sol la tonica secondo grado la quindi una seconda maggiore terzo grado si terzo maggiore poi abbiamo il quinto grado quindi si toglie il quarto dalla scala maggiore abbiamo il re il sesto maggiore quindi il mi e poi si va all'ottava quindi non abbiamo il settimo grado che ci costringe quasi a risolvere per questo che funzionano benissimo le pentatoniche in determinati contesti perché non c'è questo fastidioso quarto grado per molti motivi ora lascio un attimo perdere e il quinta con l'aggiunta della sesta e della seconda scusate quindi due note assolutamente tranquille che non ci creano problemi se la vedo in mi minore è identica perché ho mi sol la si re mi quindi in termini relazione su un accordo di min minore avrò la tonica terza minore la quarta giusta la quinta la settima minore e l'ottava mentre più conveniente studiare ad esempio la pentatonica minore di sol quindi torno il mio sol però la faccio minore quindi avrò il sol poi il si bemolle questo mi indica che è minore quindi terza minore il do naturale è la quarta giusta re che è la quinta fa naturale che è la settima minore e l'ottava quindi questa differenza tra le due pentatoniche partendo dalla stessa nota quindi maggiore e minore non ho fatto altro che suonare la pentatonica maggiore di sol e poi quella maggiore di si bemolle semplicemente partendo dal solo qui si torna al discorso non complichiamoci la vita come studiarne allora ripeto una volta che ho memorizzato gli intervalli le note quindi come faccio sempre per arpeggi triadi scale eccetera anche per le pentatoniche io utilizzo il mio fedele metodo del partire con tre diteggiature diverse questo mi basta e mi avanza per poi poter mischiare il tutto e avere una padronanza notevole dello strumento della tastiera la conoscenza eccetera quindi cambiamo andiamo la pentatonica di mi maggiore anzi si maggiore abbiamo si do diesis re diesis fa diesis e sol diesis e si di nuovo quindi io posso farla così mettendola al dito medio quindi ho trovato tutto scritto con le dita che uso poi posso farla così stessa identica cosa mettendola al primo dito dito indice e poi posso farla così partendo dal quarto dito mignolo con queste tre diteggiature senza scomodare i box eccetera eccetera se le vado a mischiare come dicevo prima avrò questo risultato parto da qui quindi eccetera eccetera qui mi posso spostare su tutta la tastiera perché sono partito ad esempio dalla posizione del primo rito quindi allaccio a quella del quarto dito poi qui posso passare a quella del secondo e arrivato con quella del primo sull'ottala sopra eccetera eccetera io questo è il mio metodo di studio per tutto quello che suono quindi faccio pratica metto una base ad esempio e inizio semplicemente suonando le note che compongono la pentatonica su tutte le ottave scambiando l'ordine delle note senza creare niente di musicale necessariamente poi dopo inizio a fare delle parti quindi possono essere belli scrivo gli esercizi più classici quindi pure terzine Oppure per qui diciamo quinte gruppi di quattro gruppi di cinque eccetera 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 quindi anche qui come dico sempre inventate i vostri esercizi e per ora rimaniamo sulla pentatonica maggiore di sol o di mi metto la base senza note di passaggio note out senza niente per questo primo video di questo approfondimento quindi metto la base mettiamola di mi minore e ci suoniamo la pentatonica appunto di sol maggiore e tanto uguale a quella di mi minore eccola è importante sentire la sonorità dell'accordo in accordo minore allora questa è la pentatonica minore e mi questo è il maggiore dei soli non ci sono le differenze perché sono soliti note quindi iniziamo a suonarla su tutta la tastiera quindi 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 ciao 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 dobbiamo creare delle linee un po' più musicali un po' più un po' più un po' più Grazie a tutti. 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 Allora, io ovviamente dopo un po' tendo, mi mancano le note di passaggio, le note un po' out, diciamo, perché dopo un po' se no le demi cominciano a scarseggiare, soprattutto su una base con un accordo solo. Però è un ottimo elemento per esercitarsi e per anche sperimentare delle melodie costruite sulla pentatonica. Ho fatto una lista enorme, ho fatto una lista enorme, ce ne sono un'infinità in ogni genere musicale. La pentatonica viene utilizzata sia per l'improvvisazione, sia per la composizione, sia per le melodie, insomma. Volevo dirvi l'ultima cosa che mi è stata richiesta in un'altra occasione di un pattern che feci tempo fa, l'avevo già rispiegato, però evidentemente mi spiego male. E lo faccio rivedere un attimo che era più o meno questo. Qualcosa del genere. Si tratta semplicemente anche qui di successione di patterns e della ripetizione di ogni formula in due diteggiature diverse. Cioè, quando sono arrivato qui, ripeto ogni passaggio con due diteggiature diverse. Semplicemente questo, forse l'ho fatto un po' più veloce, quindi ci riprovo e poi ragazzi questa è la prima parte, poi scopriremo come suonano le pentatoniche in vari generi, le sostituzioni che possiamo usare per espandere il nostro vocabolario musicale. Provo a rifare esercizio e poi ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.